Questo seminario di oggi sulla cittadinanza si inquadra in questa più larga nostra attività seminariale che è nata proprio con l'intento di federare degli istituti dove in qualche modo si mettono in pratica delle forme di cittadinanza attiva, chiamiamole così, e che ha proprio lo scopo di federare queste forme di cittadinanza attiva e di lavorare a fondo e ricreare spazi di cultura politica di cui c'è molto bisogno. Oggi in particolare questo tema è centrale, è un tema molto complesso e abbiamo invitato forse le due persone più importanti, i due protagonisti del discorso sulla cittadinanza, Pietro Costa e Thien Balibar e il punto è proprio cercare di lavorare sulla cittadinanza come terreno di lotta, come campo di tensione, tra uno statuto giuridico a volte troppo omogeneo, chiuso in determinati confini territoriali, giuridici e politici e dall'altra parte delle pratiche di cittadinanza attiva, come li ha chiamati Balibar, atti di cittadinanza. Questo discorso chiaramente ci induce a riflettere e a concentrarci soprattutto sui soggetti, sui soggetti che in qualche modo sfidano anche la cittadinanza tradizionale, soggetti quali i migranti per primo, ma in generale tutte le varie soggettività politiche e appunto questo discorso si lega profondamente anche al discorso nella sua attenzione, nelle sue ambivalenze che riguarda propriamente i diritti che sono un altro grande tema al centro dei nostri incontri.